In questa lezione parleremo della progettazione di una base di dati. Ma che significa progettare? Progettare una base di dati significa definirne la struttura, definirne le caratteristiche e definire i contenuti della base di dati. La progettazione della base di dati è articolata in tre fasi. Noi individuiamo la progettazione concettuale, la progettazione logica e la progettazione fisica. Naturalmente però la progettazione va inclusa all'interno di un'attività molto più complessa relativamente alla realizzazione di un sistema informativo. In effetti la progettazione è solo una fase che possiamo individuare all'interno del ciclo di vita di un sistema informativo. Il ciclo di vita di un sistema informativo include sei fasi. Nella prima fase abbiamo lo studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità consiste nell'individuare le alternative possibili e stabilirne i costi. Sostanzialmente si tratta di capire se la realizzazione di questo sistema informativo è sostenibile, studiandone i costi benefici. Una volta stabilito che il nostro sistema informativo è fattibile, quindi le spese sono sostenibili e anche chiaramente in termini di tempi i tempi sono accettabili, allora si passa alla seconda fase ovvero alla fase di raccolta ed analisi dei requisiti. In questa fase si studia la realtà di riferimento. Si cercano di individuare le funzionalità che il sistema informativo deve soddisfare, deve compiere, si cercano di capire le caratteristiche di questo sistema informativo e quindi si cerca di descrivere in qualche modo la realtà di riferimento. La descrizione della realtà di riferimento avviene attraverso un documento estremamente informale. Si tratta cioè di una descrizione di un documento all'interno della quale si descrive in parole la realtà di riferimento evidenziandone proprietà, evidenziandone caratteristiche, evidenziando le funzionalità che ci si aspetta da questo sistema informativo. In questa fase normalmente c'è la necessità di interagire con gli utenti del sistema informativo stesso. Ci sarà necessità probabilmente di fare dei questionari, di affiancare eventualmente gli stessi operatori che poi andranno ad utilizzare il sistema operativo. Si tratterà magari di raccogliere documentazione. Al termine si scrive questa relazione che sarà l'input della fase successiva, ovvero della fase di progettazione. Nella fase di progettazione si acquisisce il documento creato nella fase precedente e si cerca di formalizzare la descrizione della realtà di riferimento. Quindi mentre nella fase precedente abbiamo una descrizione informale, nella fase di progettazione si formalizza il tutto. Nel nostro caso, chiaramente, quando andremo a lavorare e a progettare le basi dati, sarà necessario individuare un metodo, una metodologia che ci permetta di formalizzare la struttura della base di dati. Completata la fase di progettazione, si passa a quella di implementazione. Nella fase di implementazione, chiaramente, saranno coinvolti i programmatori e sostanzialmente verrà creato del codice. Chiaramente il codice verrà creato sulla base del progetto ottenuto nella fase precedente. La produzione di codice non è immune da errori. Anzi, molto spesso, il programmatore, su o malgrado, crea del codice che ha dei bug, possiede dei bug. Normalmente non è il programmatore stesso che individua i bug, ma ci saranno dei beta tester, cioè ci saranno delle persone, degli specialisti deputati all'individuazione degli errori contenuti all'interno del codice prodotto dai programmatori. Si passa dunque alla fase successiva. Il programmatore rilascia il codice e i beta tester provvedono a collaudarlo e a validarlo, cioè a vedere e a capire, ad analizzarlo e a capire se contiene degli errori. Individuati gli errori, si richiede la correzione ai programmatori. Ovviamente queste fasi, si capisce immediatamente, che non sono necessariamente sequenziali. È possibile che siano anche effettuate in parallelo. Cioè non bisogna aspettare il completamento di tutto il codice per iniziare a testarlo, no? Il test può avvenire in parallelo. Completata la fase di test, c'è il rilascio ufficiale della prima release. Il prodotto finale viene utilizzato dai vari operatori, dai vari utenti finali. Per cui si procede con la fase successiva, che è la fase di funzionamento. Nella fase di funzionamento il sistema sarà quindi utilizzato dai vari utenti, dai vari operatori. In questa fase comunque è possibile che si individuino ancora degli errori. Allora è possibile distinguere un'attività di manutenzione. In particolare l'attività di manutenzione si distingue in manutenzione riparativa e manutenzione migliorativa. La manutenzione riparativa consiste nel riparare gli errori che sono sfuggiti nella fase di testing, cioè in quella di valutazione e collaudo. La manutenzione invece migliorativa consiste nell'aggiungere delle nuove funzionalità non previste nella fase di progettazione, ma che sono comunque utili ed eventualmente migliorare anche quelle esistenti in termini di prestazioni.